c'è una volta i ragazzi stanno stavolendo i ragazzi c'hanno andato ma tu che ma chiudi tu che le strade all'improvviso appaiono eh scusa mai ti riservi a quello bigli no magari una bigli io sono andato a destra ma è spettacolare bellissimo costo secondo me questi sono dei costi bellissimi buona questo non si è avvarato se volevi vendita un drogoglio che vendite che vendite che vendite che vendite che vendite che vendite non è andato a lui mi è piaciuto guarda che punita oh te ne ho avviato c'è già fuori in danufruos mannaggiano chissi ci ha mannato a colpa davanti ahahah ben di sta bellissimo madonna che spettacolo frigene come si chiama frigene no aspetta come stai dicendo per come ha detto Gesualdo ma noi stiamo là a due passi siamo scisi continuavamo a seguire il navigatore da me tu vuoi vabbè vuoi il contatto umano giustamente aspetta aspetta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.